Per evitare intrusioni non richieste all'interno della tua linea internet, è opportuno aggiornare periodicamente la password del tuo modem Wi-Fi. Ma come si fa? E quanto deve essere lunga? Troverai la risposta a questa e altre domande in questo video. Impostare una nuova password del tuo modem rende più sicura la rete su cui navichi, in quanto impedisce agli estranei di accedere alla tua linea o, nel peggiore dei casi, ai tuoi file personali. Inoltre, modificando la password inserita di default dal tuo operatore, puoi inserirne una con parole chiave scelte da te, e dunque più semplici da ricordare. Cambiare la password del modem è un'operazione semplice che richiede pochi passaggi. In primo luogo, entra su internet dal tuo PC e digita, all'interno della barra degli indirizzi, l'indirizzo IP della tua rete. L'indirizzo IP è un'etichetta numerica che identifica univocamente il tuo computer su una determinata rete, come le targhe nelle automobili. Puoi reperirlo nel libretto di istruzioni del tuo modem, oppure all'interno delle connessioni di rete nelle impostazioni del tuo PC. Una volta inserito l'indirizzo IP, si aprirà la pagina di configurazione del modem e ti verranno richieste delle credenziali di accesso. Queste credenziali, se presenti, cambiano a seconda del tuo operatore e puoi reperirle anche in questo caso nel libretto di istruzioni. Quando avrai effettuato l'accesso, scegli una tipologia di chiave di sicurezza tra VPA o VPA2. VPA e VPA2 sono due protocolli di criptografia a disposizione dei modem domestici. VPA2 è considerato il protocollo più sicuro. Selezionato il protocollo, l'unico passaggio rimasto sarà l'inserimento della nuova password che hai scelto. Dopodiché dovrai solo salvare le impostazioni e riavviare il modem. Più la password è complessa, più è sicura. Per questo è preferibile sceglierne una che abbia una lunghezza minima di 8 o 10 caratteri. Per aumentare ulteriormente la sicurezza della tua password, ti consigliamo di inserire nella sequenza almeno una lettera maiuscola, una minuscola, un numero e un carattere speciale, come i segni di interpunzione. Per attivare un'offerta internet con il modem incluso, contatta Selectra al numero 02947 55498.